La regione non rinnova la concessione, tremano gli operai dello stabilimento della granguizza di Popoli a chiedere un immediato confronto, sono Franco Pescara e Nadia Rossi della FAI CISL. Non è più rinviabile un chiaro, snello e definitivo confronto tra la regione e chi rappresenta gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori. La revoca del bando di affidamento concessione acqua e minerali Sant'Angelo, meglio nota come acqua primavera di Popoli, sta creando tanta preoccupazione in noi, soprattutto tra le lavoratrici e i lavoratori, oltre 600, tra diretti e indiretti, che non riescono a comprendere perché un'azienda sana che da lavoro debba avere queste situazioni, rilevano dalla CISL, spiegando che oggi stesso, unitamente i delegati RSU della guizza di Popoli, il sindacato ha chiesto l'incontro al presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, e alle strutture della stessa interessate alla questione, anche se riteniamo che tutti sono interessati a questa importante realtà lavorativa abruzzese, comune compreso, chiosano i due sindacalisti. Grazie. Grazie.